Quanti bambini, ragazzi, giovani, adolescenti ci sarebbero alle 19.50 di un mercoledì 29 aprile qui alla Figli in famiglia Ollus? Penso una ottantina di bambini perché il grosso tra bambini adolescenti e giovani, il grosso a quest'ora già è andato via. Anche degli anziani spesso vengono, ma soprattutto i ragazzi che hanno bisogno di sfuggire alle pessime tentazioni della strada. Ovviamente questo tipo di attività è chiusa e state facendo invece cosa? Stiamo preparando dei pacchi per le spese per le famiglie che hanno necessità. Quali sono le conseguenze di questa mancata frequentazione? I bambini e anche le mamme, i ragazzi stanno un po' scoppiando. Aiutiamo in qualche modo utilizzando i social.